Ok ragazzi, oggi parliamo di scandali piccoli e grandi, quindi che cosa potrà mai andare storto? Iniziamo dallo scandalo del Ministero della Cultura, il cosiddetto caso Boccia-San Giuliano, perché evidentemente Boccia conta molto di più di San Giuliano e poi suona meglio mettere lei per prima. A livello di gossip itali con la stampa ha iniziato a scavare su Maria Rosaria Boccia e ha scoperto cose che interessano ad ogni casalinga di Voghera, la quale tra l'altro ha sicuramente ancora la fotina di Silvio Berlusconi sopra la parete. Ebbene, i giornalisti di Rete4 hanno scoperto che, secondo il più o meno quasi ex marito di Maria Rosaria, Maria Rosaria è una donna dalla quale è meglio stare alla larga. Quest'uomo, intervistato telefonicamente, che non ha alcuna intenzione di apparire pubblicamente, ha dichiarato che un anno di matrimonio gli è bastato, gli è avanzato e che il povero ministro ha tutta la sua solidarietà umana perché non sa quello che l'aspetta. E, ripeto, queste non sono parole mie, le ha pronunciate l'ex marito di fronte, anzi in realtà al telefono con una giornalista di Rete4. I giornali stranieri, invece, hanno fatto leva sul fatto che il ministro per la cultura abbia preso del tempo prime time sulla Rai 1 per chiedere scusa alla moglie e scoppiare quasi in lacrime, mentre gli altri hanno sottolineato il fatto che il ministro sia sostanzialmente fede di frago. Ora, senza voler offendere nessuno, il dato di fatto è che il ministro, dopo essere andato in tv a perdere la sua dignità, a piangere, a chiedere scusa alla moglie, che tra l'altro, con tutto il rispetto, se devi chiedere scusa a tua moglie, vai in tv a farlo, va bene che è il ventunesimo secolo, ma la prendi da parte un attimino e glielo dici. Se proprio proprio non vuoi correre il rischio di incontrarla di persona, perché magari la tua stessa scorta ti dice non è il caso, dottore, finisce male, e noi non riusciremo a proteggerla adeguatamente, le mandi un videomessaggio privato. Non vai al TG1! E adesso che ci penso un attimino, in effetti questo potrebbe essere peculato, perché fai un uso personale della tv pubblica. Ma al netto di tutte queste considerazioni, resta il fatto che neppure le lacrime e la parziale perdita di dignità in mondo visione hanno permesso al ministro di salvare la sua poltrona e preservare il suo ruolo, perché il giorno successivo si è comunque dimesso. Dimostrando per l'ennesima volta di non avere ben chiaro, a mio modesto parere, qual è il suo ruolo istituzionale, istituzionale, o meglio, qual è la dignità istituzionale che devi preservare e mostrare in determinati momenti, anche e soprattutto nei momenti critici. Mi spiego meglio. Questa è la lettera di dimissioni del ministro. Come potete vedere, fin dall'intestazione, c'è scritto Caro Presidente del Consiglio, cara Giorgia, E questo, con tutto il rispetto per la persona umana di San Giuliano, non va bene. Tu, in quel momento, quando stai rassegnando le tue dimissioni, non sei un amico di Giorgia. Quindi il cara Giorgia è completamente fuori luogo, così come, a mio modesto parere, lo è anche nei confronti del caro Presidente del Consiglio. Sei una figura istituzionale, devi rapportarti al Presidente del Consiglio, non a Giorgia. Quella lettera finirà al protocollo, verrà tramandata ai posteri, è una cosa istituzionale. Se vuoi scrivere a Giorgia, cara Giorgia, mi dispiace per il bippino che ho combinato. Esiste WhatsApp, e addirittura puoi cifrarla con Telegram, la comunicazione privata. Ma quella è una tua comunicazione privata? Non puoi mischiare fino all'ultimo secondo il privato con l'istituzionale. Se lo fai, finisci nei bippini. Poi, certo, dobbiamo riconoscere a San Giuliano che è rimasto coerente dal primo all'ultimo minuto, volendo fare una battuta. Ma è sbagliato. E tra l'altro è sbagliato anche il motivo per cui San Giuliano afferma di essersi dimesso. In realtà è in buona compagnia, perché tutto il mondo sembra concentrarsi sul gossip. Ci sono solo poche lodevoli eccezioni, ma nessuna di queste ricopre un ruolo istituzionale o è un giornalista di grido. Ci sono io, c'è qualche altro giurista, c'è qualche giornalista, c'è qualche influencer, ma siamo davvero pochi. Il problema non è questo. Non è il fatto che avessi un amante. Questo problema può essere tale per gli inglesi, per gli americani, che detto fra noi, sono gran brave persone, almeno fino a quando non si parla di Trump, ma sono leggerissimamente bigotte. Il problema qui è che San Giuliano ha mostrato di non avere rispetto per le istituzioni, ha dimostrato anche di non avere il senso delle istituzioni, purtroppo. Perché non puoi portarti appresso una persona e presentarla come consigliere, cioè riconoscere un ruolo istituzionale quando questo ruolo istituzionale non c'è e non esiste. E, tra l'altro, io non lo posso sapere, ma, ripeto, da come si sono svolti i fatti e dalle risposte date non più dottoressa, ma signora Boccia, perlomeno secondo il suo quasi ex marito, la nomina non c'è mai stata, ma lei non lo sapeva che non c'era stata la nomina, continuava ad accreditarsi così, nelle locandine veniva accreditata in un certo modo, riconoscendole un ruolo che però di fatto pare non avesse. Ora, se tu sei il ministro, quando partecipi a una riunione con la signora Boccia al tuo fianco e un funzionario pubblico, un quadro, un dirigente per organizzare qualsiasi cosa e lei si presenta come consigliere del governo, tu non pensi di avere il dovere di dire guardate, la signora è la mia compagna oppure è un mio consulente privato, non ha alcuna figura istituzionale, non pensi di doverlo precisare, è il minimo sindacale, dopodiché, dopo la prima volta che si comporta così, la seconda volta che si comporta così, io francamente prenderei da parte la signora Boccia e direi guarda, con tutto il bene che ti posso volere non hai un ruolo istituzionale, smettila di presentarti così perché mi metti in imbarazzo e alla terza volta probabilmente non la porterei più con me agli incontri istituzionali, perché chiaramente è fonte di problemi. e anche comportandomi così, giustamente, altre persone potrebbero dire che me la sono portata dietro a incontri istituzionali due volte di troppo, forse anche tre. Quando sei ministro, poi, hai il dovere di adempiere le tue funzioni con disciplina ed onore e senza offesa per San Giuliano, qui è mancato in entrambe di queste qualità. Senza contare il fatto che il tuo ruolo di ministro dipende ovviamente anche dalla fiducia che il presidente del Consiglio può avere su di te e sul tuo operato. Se appare inaffidabile perché combini un bippino per un non nulla, come in questo caso, come può il presidente del Consiglio continuare a farti fare il ministro? Qui bastava pochissimo per evitare il disastro. Bastava dire la signora Boccia non è consulente del governo, è la mia consulente personale. Certo, dovevi dirlo anche alla signora Boccia e magari erano bippini di tipo diverso, ma non è un problema istituzionale il tuo rapporto con la signora Boccia. Ok? Quindi è corretto che il ministro si sia dimesso e sventuratamente per noi è stato sostituito con qualcuno che senza offesa non mi esalta. È stato infatti sostituito con una persona che proviene da ambienti di estrema destra, addirittura si è auto-identificato durante un'intervista come nazi, non nel senso che si riconosce nei tedeschi degli anni 30 e 40, ma semplicemente pare che abbia letto un libro dove si parlava di riconoscere i nazi e lui ha detto ehi, stanno parlando di noi! Ora, premesso che l'autore di quel libro poteva avere delle idee un pochino particolari, magari anche boldriniane, in cui se sei a favore di Israele sei brutto, cattivo e puzzone, e che quindi magari c'è anche un misunderstanding di fondo. Bisogna riconoscere che però le premesse non è che siano delle migliori. Poi, nel 2018, questa persona appoggiava tanto Trump quanto Vladimir Putin. E se chiunque di noi che non si occupava di politica, era distratto, stava guardando qualcos'altro, poteva avere, non dico legittimamente, ma comprensibilmente, le idee confuse su chi fosse esattamente Vladimir o Vladimirovich Putin, se tu sei politicamente attivo, vieni invitato a fare il moderatore ad Atreio e chiedi a Steve Bannon come si può far venire meno le sanzioni perché Zio Vlad è un vero e proprio patriota, insomma, io un filino mi preoccupo, ecco. Così come mi preoccupo quando c'è qualcuno che sostiene il sovranismo a priori a tutti i costi. Il sovranismo non è sempre un bene e per quanto riguarda il patriottismo anch'io mi ritengo un patriota perché penso prima alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei parenti, ai miei vicini di casa, alla mia città, alla mia nazione e poi anche al mio continente. Ma il punto è che il bene della mia nazione non coincide sempre con il sovranismo stretto. Ci sono situazioni in cui è meglio far parte di una realtà più grande. in un mondo dove hai la Cina con qualche miliardo di persone, l'India che conta anche qui, tantissime persone, una Russia con 130-140 milioni di persone, gli Stati Uniti con i loro 300, far parte dell'Europa non è poi tanto male. Puoi ottimizzare un mucchio di cose in una realtà più grande. In primo luogo la tua moneta non è più vulnerabile come lo era prima. pochi se lo ricordano ma Soros effettivamente ci causò letteralmente nell'arco di qualche giorno danni economici spaventosi perché riuscì a condizionare il valore della lira da una parte e della sterlina dall'altra. Fece degli attacchi speculativi sulle nostre monete o comunque sui nostri asset di Stato paurosi e ne pagammo il prezzo negli anni 90 quindi se mi dicono Soros ti finanzia che simpatico grazie ma no grazie perché fece dei danni enormi poi era il suo lavoro può darsi ma anche i bippisti facevano soltanto il loro lavoro ok? Invece Soros quel Soros degli anni 90 un attacco contro l'euro non avrebbe potuto portarlo avanti non avrebbe avuto successo e se l'avesse avuto non avrebbe causato letteralmente centinaia di migliaia di disoccupati ok? Questo è uno dei casi in cui fare squadra è un bene similmente se riuscissimo ad avere un esercito europeo cosa per la quale si sta battendo per esempio l'eurodeputato Salini e anche l'eurodeputato Moratti perché è stata eletta anche lei va bene abbiamo molte spese in meno invece di avere 17 main battle tank con 17 progetti che vanno tutti finanziati avere 17 linee di produzione e avere 17 tipi diversi di pezzi di ricambio per ogni battle tank ne abbiamo uno risparmiamo molti soldi che come contribuenti possiamo o risparmiare o investire in altro magari nel sociale e la stessa cosa vale per la Nato nessuno è talmente imbecille da attaccare un'alleanza di 30 nazioni o quelle che sono non a caso Putin ha preferito attaccare l'Ucraina benché gli stati baltici ufficialmente ufficiosamente sarebbero stati dei bersagli più semplici da conquistare solo che se avesse attaccato i baltici avrebbe avuto contro tutta la Nato e quindi 30 nazioni fra le più ricche del mondo e anche le più potenti più capaci tecnologicamente attaccando l'Ucraina Zio Vlad pensava di avere campo libero su una nazione debole economicamente e militarmente quindi la Nato ci aiuta perché noi non dobbiamo avere un esercito tra l'altro al top in ogni settore possiamo avere un'aeronautica che è al top e una marina ottima e per il resto naturalmente possiamo fare affidamento sui nostri alleati e un bene anche qui risparmiamo tempo denaro e risorse che possiamo investire altrove se mai gli Stati Uniti dovessero ritirarsi in questo caso dovremmo investire molto di più per coprire le lacune che loro lascerebbero ma anche in questo caso essere sovranisti ci renderebbe vulnerabili agli attacchi esterni gli ucraini sono sovranisti non hanno avuto alternativa e sono sott'attacco dei russi con parte del loro territorio occupato da una potenza stranera questo è un dato di fatto e gli ucraini volevano entrare nell'unione europea infine San Giuliano aveva i suoi evidenti limiti e difetti ma qualcosa di buono come ministro è riuscito a farlo è riuscito per esempio a fare in modo che i musei fossero aperti anche durante le vacanze e questo ha portato a maggiori entrate anche per i musei e ha la possibilità di fruire dei musei in maniera più ampia e nel periodo in cui hai più tempo libero questo gli va indubbiamente riconosciuto vedremo che cosa farà il nuovo ministro della cultura come sempre io un pochino di preoccupazione ce l'ho perché è detto fra noi una persona che mi esalta Vladimir Putin non mi entusiasma che altro dire questo accadeva nel 2018 non so se la sua posizione dal 2018 a oggi è cambiata io certamente dal 2018 a oggi una posizione l'ho presa prima devo essere sincero non ce l'avevo perché mi occupavo di altro vedremo che cosa accadrà incrociamo le dita purtroppo e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di supportare il canale iscrivetevi attivate la campanellina condividete il link al video sui social che frequentate e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso per voi sono solo pochi click ma per il canale sono molto importanti se poi volete diventare dei super sostenitori ricordatevi di iscrivervi o di abbonarvi al canale costerà un po' di più avrete qualche piccola gratificazione simbolica ma farete qualcosa anche di molto più concreto infine se non farete tutto questo in un futuro alternativo remoto e decisamente improbabile potreste ritrovarvi San Giuliano come amministratore del vostro condominio io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto